Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione da TRG per questo venerdì 27 settembre insieme per sfogliare i quotidiani con la politica ma anche la cronaca con un incidente domestico piuttosto grave accaduto nella serata di ieri nella zona del Trasimeno e anche con un fatto di cronaca che ha visto le fiamme gialle in primo piano e su questo che apre il Corriere dell'Umbria, auto di lusso, 16 milioni di evasione IVA, un fatto clamoroso per le sue dimensioni 8 denunce per l'associazione a delinquere e false fatture coinvolti 3 autosaloni a Perugia questo è il titolo a tutta pagina per il Corriere che poi nella fotonotizia mette in evidenza la realtà di San Fatucchio il club Lacustre, noi che il calcio San Fatucchio, Regina vedremo ovviamente nei dettagli la politica è il giorno della chiusura delle liste oggi ma già ieri molta parte del lavoro è stata fatta Casciari contro il PD e come dire si passa alle rese dei conti interni la Casciari esclusa dalla lista dice in lista i soliti intoccabili l'ex consigliere Demma attacca il commissario Verini dopo l'esclusione sto ancora aspettando una spiegazione politica primo faccia a faccia intanto ieri tra Bianconi e Tesei a Foligno all'auditorium San Domenico c'eravamo anche noi in occasione dell'assemblea annuale di Confagricoltura stasera dedicheremo a questa iniziativa il nostro plus e poi Piazza Pianciani a Spoleto, progetto per la scalinata al concorso ad Isu tutti bocciati per un posto da dirigente mentre accordo all'acciaio speciali 700 in cassa integrazione questo per il Corriere dell'Umbria dalla Nazione, nazionale, il dorso nazionale sulla vicenda di cronaca pentola di acqua bollente, ustiona bimbo nei 9 anni incidente all'ora di cena ieri sera a Passignano l'apertura sul tema del giorno fine vita i medici che dicono non tocca a noi dopo la consulta sul suicidio assistito cresce l'obiezione anche fra i laici e poi la Nazione nel dorso regionale invece sulla maxifrodi delle auto 8 nei guai, quasi 16 milioni di euro coinvolti i tre autosaloni ma c'è anche spazio per un premio Nobel Candel a Perugia per preservare la memoria fate volontariato state in mezzo alla gente la polemica della Casciari di spalle a Perugia via le macchine dall'ingresso del teatro Morlacchi e poi a Orvieto fidanzatini aggrediti dopo la festa denunciato un minore c'è un'inchiesta che arriva anche da Terni delitto di mafia ordinato con il cellulare dal carcere di Sabbione mentre la buona notizia è la campagna per la sicurezza sulle strade in corso in questa settimana con la polizia in campo ieri l'iniziativa a Perugia dopo essere stata a Gubbio e terminerà a Todi siamo al messaggero dal cielo scoperti 50 sospetti evasori controlli con l'elicottero della finanza e indagini in corso su oltre 30 traville, casali, piscine 10 di scarica abusiva al setaccio le colline intorno a Perugia nel Trasimeno verifiche su spiagge private piantagione di marijuana trovata ma sarebbe legale la foto notizia è dedicata Elisa Ioni, Miss Trifola cercatori sempre più in rosa la prima donna cercatrice di tartufo che dice è diventata la mia grande passione e poi oggi l'assemblea di Confindustria ne parla il messaggero ad Assisi ci sarà il presidente nazionale Boccia mentre per la politica Tesei perde la Franco Bianconi con 5 liste col Paccio Arcudi accordo col gruppo di Mascio l'ex assessore dei comunisti italiani infine da Perugia basta con le auto che invadono il percorso verde una lamentela dei fruttori mentre dallo sport Perugia Oddo turnover al top ecco il grifo camaleonte da Terni cambio modulo la svolta di Gallo che ha fatto bene ai Rossoverdi questo per le pagine le prime pagine dei quotidiani noi andiamo a vedere le pagine regionali che cosa ci dicono questa mattina a cominciare dalla cronaca con il Corriere che apre con le auto di lusso importate scoperto una maxifrode 8 indagati per associazione delinquere e false fatture l'indagine è partita da un controllo dell'ufficio delle Dogane e su vetture che erano di provenienza tedesca la politica ma che rinnovamento il PD ha fatto la lista degli intoccabili l'accusa della Casciari non sono la sola adesso mi aspetto delle spiegazioni politiche intanto c'è anche Verducci che dice la mancata candidatura di Carla spettacolo penoso frutto delle correnti e ci sono le inevitabili polemiche mentre ieri il confronto con i due dei candidati alla presidenza della regione a Foligno da parte di Confagricoltura Tesei Bianconi la sfida iniziale all'agricoltura tanti gli spunti che sono emersi dall'auditorium San Domenico la Franco in forze cambiamo con Toti potrebbe non correre la lista è a rischio mentre l'altra si meno Salvini dice riprendetevi la vostra regione lasciate a casa la sinistra c'è anche spazio per la Disu per la clamorosa bocciatura di tutti i concorrenti del concorso da dirigente 51 ammessi 14 si presentano agli iscritti nessuno ottiene il punteggio minimo insomma non è una bella una bella figura nasce la fondazione Dozza per promuovere studi e ricerche in memoria del compianto rettore dell'Ateneo Perugino e poi la cronaca omicidio Pecorelli le carte diventano digitali l'archivio Flaminia riversato parte degli atti del processo ad Andreotti l'opera resa possibile dalla fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ancora da Perugia il Nobel innabolato dell'Umbria è Erk Kandel che ha tenuto una lezione magistrale per l'apertura del congresso di neuroscienze in anteprima nella notte dei ricercatori ancora da Perugia sciopero per il clima studenti in marcia oggi ci saranno in tutta l'Umbria anche a Perugia tantissime adesioni per la manifestazione mondiale proclamata con il Fridays for Future a San Martino in campo all'Ugna insegnanti in una scuola ripuliscono due parchi cittadini e questo credo che sia il modo migliore per onorare in qualche modo la campagna lanciata da Greta Thunberg perché sfilare è bello ma dare il buon esempio è ancora è ancora meglio e poi controlli dall'alto della Guardia di Finanza voli in tutto il Perugino per individuare abusi edilizi discariche non autorizzate coltivazioni di stupefacenti e altre illegalità questo per il Corriere dell'Umbria andiamo alla Nazione ripartiamo anche qui dal dorso regionale dalla politica il pescatore lo definisce la Nazione riferimento a Salvini che fa il suo tour nel Trasimeno getta la rete per i voti intanto rientra in scena Lomurno e anche Teresa Severini tra i possibili candidati nella lista della Presidente 5 stelle 4 su 10 contrari all'intesa l'intesa col PD e poi la Casciari anche qui le sue parole scusa perché oscuravo un'altra mentre Fora sarà nella lista di Bianconi Verdi e Civici invece vanno insieme la cronaca auto dalla Germania Maxi Frode sul Liva ne parla anche la Nazione diffusamente poi Ustionato grave bimbo di 9 anni incidente domestica Passignano investito dall'acqua bollente Piazza Morlacchi ecco il ritocco via le auto più spazio per pedoni spettatori davanti al teatro mentre la Fondazione Dozza aiuta la ricerca voluta dall'ex rettore supporta l'ambito medico veterinario intanto una donazione un letto ai tecche per ostetricia donazione del gruppo Grifo del centro Fileremo infine il Signore dei Ricordi Candre il premio Nobel che dice ecco come funziona la memoria un appello a tenerla sempre in allenamento per non perdere i colpi infine la giornata paralimpica realtà oggi evento a Pianni Massiano Tassi presidente del CIP del Comitato Paralimpico Umbro dice promuovere lo sport chiudiamo col messaggero chiudiamo con anche qui le pagine regionali partendo da Perugia è un parco basta automobili percorso verde caos viabilità i cittadini che frequentano l'area verde dicono transito a tutte le ore così non va bene rifiuti controlli antifurbetti intanto per chi li abbandona e purtroppo sono sempre frequenti in strada dal messaggero andiamo avanti parliamo di cronaca ancora dal cielo scoperti 50 sospetti evasori mentre 200 sub illegali arrivati dalla Germania eccoli qua tremano i proprietari siamo alla politica tutta pagina la Tesei perde la lista di Lafranco cambiamo non ci sarà salta lo schienamento di Giovanni Toti fratello d'Italia via Lignani dentro Maraghelli e la sindacalista Droghetti col paccio Arcudi intesa col gruppo dell'ex assessore dei comunisti italiani Dimascio lavoro sociale prevenzione la spinta della fondazione che ha annunciato 18 milioni di euro per i prossimi tre anni questo per quanto concerne le pagine regionali noi andiamo a vedere quella invece che riguarda il nostro sito trgmedia.it per aprire il capitolo dei comprensori e vedere insieme l'apertura sul festival del medioevo soprattutto che rappresenta il grande evento di scena in questo fine settimana a Gubbio un evento da come dire da tutto esaurito praticamente in ogni seminario con un programma ricco e che è molto molto partecipato molto affollato e poi tra gli altri spunti che possiamo vedere scendendo nella nostra home page del sito la cronaca con la finanza che controlla dalla cielo gli abusi attenzione all'attualità ecco lo vediamo lunedì chiusura della rampa di accesso all'AE45 per lavori ANAS dalla Perugia Ancona quindi per chi si dirige a Perugia è consigliabile transitare per la vecchia statale del bosco a Foligno la mostra Leonardo tra i primi d'Italia inaugurata ieri con la Rassegna e poi più in basso l'iniziativa del Maggio Gubino con le passeggiate che tornano domani al castello di Magrano ma a proposito di Festival del Medioevo torniamo in studio andiamo a vedere il servizio tratto dal TG di ieri dedicato alla manifestazione ideata da Federico Fioravanti vediamo Tanta gente gara informazioni specifiche con un approccio popolare perché dà la possibilità di incontrare le migliori firme della ricerca storica perché quest'anno in particolare indaga sul ruolo delle donne in un secolo ritenuto da sempre ostile al gentil sesso ma il concetto fu più erroneo lo ha dimostrato lo storico Alessandro Barbero in un intervento dedicato alla sessualità è da molto tempo che ci sono questi luoghi comuni sul Medioevo represso su un'epoca dominata da preti e monaci sessuofobi che sorvegliavano rigorosamente i comportamenti la verità come viene fuori da tutte le fonti dalla narrativa ma anche dalle leggi dai processi la verità è che quella era una società estremamente difficile da controllare molto libera molto diretta molto poco ipocrita quindi nel Medioevo si faceva sesso molto di più di quello che noi crediamo alcuni monaci disperatamente cercavano di impedire alla gente di farne troppo ma con poco successo e quanto alle donne partecipavano pienamente perché lasciando da parte il discorso dell'omosessualità che pure c'era e non era molto repressa però in generale altrimenti al sesso partecipavano appunto anche le donne è una caratteristica della mentalità medievale è di pensare che il sesso è una cosa naturale è una cosa necessaria è un bisogno che hanno tutti e quindi anche le donne ce l'hanno questo bisogno tanto che se un marito non soddisfaceva a sufficienza la moglie questo nel Medioevo era un argomento sufficiente per chiedere la separazione in questo festival che racconta di donne che hanno scritto la storia c'è posto anche per la storia locale come quella di Santuccia Terrabotti da Gubbio raccontata da Euro Puletti presso la sede della Lumsa ovvero la storia della religiosa che nel XIII secolo fondò l'ordine delle monache benedettine e delle Santucce aggregando e reggendo ben 24 monasteri in tutta Italia negli appuntamenti di domani da segnalare la sessione dedicata a Tolkien attesa dalle 9.30 per tutta la mattina al complesso di San Francesco dove si parlerà delle donne raccontate da Tolkien nei suoi libri dall'elfica Arwen alla coraggiosa Eowyn il tutto a cura dell'associazione italiana di studi tolkieniani che proprio per il festival ha pubblicato il libro Riscrivere la leggenda Tolkien e il medievalismo di Sigurd e Gudrun a cura di Valerii Morisi alla vigilia di un ritorno anche cinematografico e televisivo di Tolkien e dei suoi lavori Tolkien è assolutamente attuale anche perché basta prendere Il Signore degli Anelli e iniziare a leggere il romanzo e si vede come anche il lettore di oggi trova qualcosa che lo sollecita nel racconto sono tutta una serie di autori nell'arco del tempo hanno riconosciuto questo debito con Tolkien da George Martin fino a Stephen King Ursula Le Guin insomma tantissimi autori ed è ancora attuale anche perché è oramai un fenomeno culturale in tutto il mondo appunto è di questi giorni l'uscita anche in Italia di una biografia sulla vita di Tolkien e allo stesso tempo Amazon sta lavorando ad una serie tv che ha già all'attivo cinque edizioni che stanno preparando quindi più che mai le opere di Tolkien oggi sono moderne e sono attuali domani tra gli appuntamenti collaterali spazio all'arte alle 18 alla sala trecentesca arriva Claudio Strinati per una lezione su Pinturicchio quindi alle 19.30 a Palazzo dei Consoli l'apertura della mostra dedicata al dipinto Bambin Gesù delle mani siamo alle pagine dei comprensori dopo aver sentito del Festival del Medioevo da Assisi Basilica senza barriere inaugurato lo scivolo la pedana consente il passaggio dei disabili e si rafforzano anche i sistemi di sicurezza dal lago la cronaca con la notizia che abbiamo già visto in altri quotidiani l'ustione del bambino con l'acqua bollente per 40% del corpo trasportato al Santa Maria della Misericordia per essere poi trasferito a Cesena questo per quanto riguarda il lago dal Corriere saliamo in alto anzi andiamo a Todi con Ponterio in dirittura d'arrivo i progetti che trasformano il volto della frazione contratto di quartiere a Riverdi Ponte di Ferro e la nuova palestra le novità e poi da città di Castello a Pecchiese dissuasore un nuovo percorso per evitare incidenti Tavernelli e Minciotti i consiglieri comunali e i PD indicano soluzioni entro l'anno arriva il quarto defibrillatore si espande il progetto Umberti Riccardi o Protetta il dispositivo sarà posizionato alla farmacia comunale 2 da gubbio traffico nel caos sulla contessa contenono i disagi legati all'aumento dei camion dopo la chiusura della E45 intanto stasera a 19.30 a Palazzo dei Consoli l'opera del Pinturicchio che sarà inaugurata con l'iniziativa collaterale al Festival del Medioevo a Foligno Quintana Gal pronto a finanziare la realizzazione del nuovo gonfalone che sappiamo è stato danneggiato da un atto vandalico mentre dal mondo della sanità ospedale ok al parcheggio per i dipendenti il sindaco Zuccarini annuncia si farà manterrò l'impegno che avevo preso da Spoleto cementificio cassa integrazione da lunedì sarà attivata rotazione per una settimana al mese per ciascun operaio mentre dalla seconda pagina scalinata di Piazza Pianciani affidati il progetto di recupero avrà un costo di 33.000 euro siamo a Terni viabilità rivoluzionata grazie al Tulipano la riqualificazione del complesso faciliterà i collegamenti con il centro sottopasso per via del centenario mentre dalla seconda pagina l'acciaio specialico la cassa integrazione per 700 dipendenti l'accordo raggiunto sindacati preoccupati il management non fornisce i dati su ordine possibili scarichi produttivi infine Terni città europea dello sport arrivano i commissari per valutare gli impianti avanza la sua candidatura per il 2021 mentre la rivincita fraporta prenota il bis a Narni dopo i rigori del tempo che hanno impedito la ripetizione della rassegna siamo alla nazione le banche rinunciano ai borghi panicali i sindaci del Trasimeno protestano lettera al ministro contrastare la volontà di chiusura perpetrata ai danni delle comunità progetto stazione sui binari giusti ad Assisi presentato il rilancio deposito bagai noleggio biciclette le novità da Gubbio clima la scuola da il buon esempio l'istituto Mastro Giorgio dichiara lo stato di emergenza mentre un pinto ricchio al festival medioevo il programma della rassegna di oggi e poi la città di Castello a Pecchiese serve più sicurezza chiesti autovelox mentre Pirovano porta in scena il mistero buffo di Dario Foro spettacolo agli illuminati alle 21 siamo al weekend autore tra burri e fumetto giornata ai ex essicatori di studi sul grande artista ospiti di eccezione per la mostra mentre lo spazzino volontario in un quadro omaggio di Renzini a Pierluigi l'artista ha dedicato una tela a Pinsaglia eccolo qua Antonio Renzini siamo a Foligno rapinatore tradito dal suo sangue viveva vicino al market la ferita alla mano ha indirizzato le indagini mentre ospedale parcheggio per i dipendenti il sindaco Usai ribadisce la richiesta il sindaco rassicura il sindacato Usai ovviamente e il sindaco rassicura un delitto di mafia ordinato dal carcere di Sabbione a Terni usato un microcellulare nascosto in cella inchiesta shock della DDA di Bari chiudiamo con il messaggero velocemente scottato con l'acqua bimbo in fin di vita è l'apertura della pagina dell'alta Umbria in Medioevo le donne invece il tema del festival di Gubbio Gubbio invece a Gualdo al via i giochi delle porte siamo a Foligno con i primi d'Italia tuffo di gusto nel segno del genio Leonardo mentre la moda in sfilata per il festival in iniziativa dell'istituto Orfini chiudiamo questa prima parte di rassegna con Spoleto e Terni con la scalinata Pianciani 33 mila euro per progettare il suo restauro anche questa l'apertura scelta mentre da Terni niente soldi dallo Stato è saltato il piano anti-smog doveva arrivare a quasi 4 milioni di euro è tutto per ora ci vediamo a presto a presto a presto a presto